salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi continueremo a giocare a Aerotrack Simulator 2 dobbiamo riprendere da dove ci siamo interrotti allora ragazzi sono andato da riposare e adesso ci finiamo questo viaggio ho deciso di continuare questa serie su Aerotrack quindi finiamo questo viaggio finiamo come potete vedere qua mi dice quanti chilometri posso fare ancora vi ricordo che stavo utilizzando la ProMod ragazzi sto utilizzando oh porca miseria sto utilizzando la ProMod e vi ricordo anche di seguirmi su Twitch il canale ASTF1 lo trovate o in descrizione oppure in sovrimpensione o porco due vabbè quindi continuiamo a giocare dobbiamo di completare sto viaggio del cavolo a completare vediamo di completare ok togliamo anche gli abbaglianti che non mai non servono più anche se dovevo fare benzina ragazzi decisamente però penso dove farcela andiamo avanti aspetta un secondo bisogna l'acqua tenere se a sinistra aspetta un po' un po' un po' E' vero. Sto iniziando a carburare quei soldi però, eh? Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Ecco qua. Purtroppo l'altro account si è buggato, ragazzi, quindi ho dovuto per forza far così, utilizzare un altro account. No dai, comunque alla fine siamo quasi arrivati, quindi anche se devo spegnere. Eh, va bene. Un riposino? No. Ah, mi sa, ce l'ha strumenta brutta. Cosa che c'è? 189. Basta che non passa qualcuno di fronte, sennò... Ok. Salvataggio? Eh, parca miseria. Ormai siamo quasi arrivati, ci siamo fatti 900 chilometri. Oh mamma... Oh mamma... O... Oh mamma... Oh mamma... Sennò... O... To... 140 km ci siamo noi siamo psicomatici ragazzi sì sì lo so che devo andare dritto sì ho capito però sinceramente dovrebbero aumentare la multa vabbè meglio così dai sì ce la faccio compiendo anzi non era manco pieno il carico del sabatoio quindi vabbè ormai siamo arrivati ragazzi mancano pochi allora io questo profilo di hero track l'ho creato proprio appositamente per youtube però cacchiera che quell'altro ormai però se diceva sì 53 barriera ok 183 183 oh a 0 km siamo arrivati a sinistra meglio così a destra meglio così termine il nostro viaggio no sbagliato al lavoro ok ma facciamo un 100 xp o andiamo sul sicuro no facciamo sul sicuro il problema che adesso è il problema che adesso ci siamo vabbè tollerante va bene così la fine l'importante è di essere arrivato a destinazione continuo allora mettiamo questo mettiamo un carichi fragili ok allora ragazzi io direi che con questo video ci possiamo salutare qui spero che il video vi sia piaciuto come sempre anche se questa è la seconda parte del video ragazzi spero che il video vi sia piaciuto come sempre vi chiedo se volete iscrivetevi e lasciate un bel like un saluto dalla Steffi ciao ragazzi ai prossimi video su Aerotrack Simulator 2 ciao 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 Grazie a tutti.